Quinta edizione dell'imprenditore ideale nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara. Siamo con l'economista Pino Mauro. Nomi importanti della nostra economia, attenzionati in questa rassegna che cresce di anno in anno. Sì, io credo proprio che sia un'iniziativa degna di grande attenzione. Dovremmo arricchirla di volta in volta perché credo sia doveroso nei confronti delle imprese, del mondo imprenditoriale, dei riconoscimenti per tutti gli sforzi che hanno fatto in questi ultimi anni all'indomani della pandemia, all'indomani della guerra in Ucraina. Quindi un'iniziativa incomiabile. Ci sono premiati dai nomi che ho avuto modo di verificare, quelli che io definisco dei campioni nascosti, cioè imprenditori che rappresentano un po' l'ossatura di questa provincia e di questa regione e che resistono a tutte le difficoltà del mercato e quindi sono in un certo senso un po' il fior all'occhiello della nostra regione, sotto il profilo economico. Anche perché sono persone che rischiano e continuano a rischiare improprio, ci mettono la faccia e danno lustro alla regione. Infatti io condivido perfettamente questo tipo di domanda perché sono quelle imprese piccole e medie, quindi non sono micro imprese, che hanno a che fare con il rischio imprenditoriale, hanno a che fare con le difficoltà del mercato e soprattutto hanno uno spessore tale che tende a proiettarli verso il futuro. Questo è molto importante perché se la regione, come indicano i grandi indicatori, tipo il PIL, l'occupazione, le esportazioni, tiene dopo queste ultime vicende, gran parte è dovuto al loro comportamento.